Situazione piccola opera Caritas ad un mese dal primo scoppio dei primi casi nella grande struttura di Giulianova. Ad oggi quali sono gli sviluppi se ci sono stati ulteriori tamponi in questi ultimi giorni? Dunque gli sviluppi sono che è passato un mese dal momento in cui il virus è venuto a farci visita. Quindi si è trattato per la maggior parte di persone asintomatiche o con piccolissimi sintomi. Il decorso si è completato di fatto. Alcuni colleghi sono già tornati al lavoro. Erano risultati positivi a quel test tampone 15 operatori, 16, e diversi ragazzi, diversi ospiti. Alcuni degli operatori sono negativizzati e sono tornati al lavoro. Altri stanno ancora facendo controlli. Alcuni tamponi sono ancora dubbi e quindi aspettiamo l'evolversi. Abbiamo rifatto un esame di massa proprio l'altro ieri e attendiamo i risultati. Speriamo di aver, se non svoltato, di aver superato la fase più buonascosa. Ecco il vostro lavoro però che non si è fermato dall'inizio dello scoppio del primo caso. Il lavoro non si è mai fermato. Quello che abbiamo dovuto rallentare sono stati alcuni tipi di attività. Ma questo lo avevamo fatto già al tempo della prima ondata che seppure non ci ha toccati ci aveva comunque costretti a fare delle scelte, come tante altre strutture anche. Quindi avevamo bloccato l'attività semiresidenziale, quella diurna. Lì sono più di 100 le persone che frequentano i nostri centri in semiresidenziale. Avevamo bloccato e rallentato l'attività ambulatoriale, quella domiciliare. Qualcosa abbiamo fatto con trattamenti di telemedicina. Era lì dove era possibile ed era permesso in una coprogettazione con la ASL. Qualcosa avevamo ripreso. Adesso con la seconda ondata abbiamo immediatamente, quando abbiamo visto i segnali, ribloccato quel tipo di... Quindi lavoriamo soltanto con pazienti residenti nei nostri centri qui di Giulianova e di Villa Volpe. Grazie a tutti.